GRANDE USO Ragazzi state molto attenti quando avete a che fare con i miei DORI Ecco questo Oh, sano Sano Ah potevamo scendere qua giù Voi Siamo morti inda Sano 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 Vai vai Su su Vedi il testo Vedi il testo Vedi 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 Vai 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 L'ho visto Sì Vedi E vabbè Non mi sape più Cos'è questa roba qua? Vedi Sì Ma il quanto da? Sette Cos'è? Un anime Oh ah è il portone ah con l'altro con l'altro con l'altro aspetto eh sennò perché questo è l'altro aspetto bella sta cosa cinematograia oh madonna riproviamo e da qua dove c'è oi da tutt'altra parte aspetta un po' sto cercando di ricordare perché là sta coltanto il trasporto bene bene ah vedi un po' è una roba di ascensione se vuole cambare andiamo ah io come il cristallo quando lo usavo come faccio adesso che cazzo faccio adesso forse non serviva ecco si se non serve un cat a meno che no e non è se non è di qua devo tornare torri indietro oh vaffanmò eh si devo saltare là vado vai vai grandioso non non cadere vai dietro 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 di me attenzione all'impolata perfetto no no figli di bastardi vi ho fregato non me ne frego non me ne frego non me ne frego bene dove mi può stare adesso ah è colovo 1 oh 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 quanti vittitori oh via 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 oh sal 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 oh 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 deve dare il buro di me oh l'ani anima Abbi il potere, forse Beh, non mi dire che sei un terzo No, no Ti prego, no Non mi dire che sei un terzo Non me lo dico E dove la trovo io la terza? Oh, no Di nuovo qua, eh Non mi fai andare Bastardo Ragazzi, qua bisogna Capire che cosa abbiamo sbagliato Forse qualcosa qua abbiamo sbagliato Nero Che fai? Veramente era di qua? No Veramente era di qua? Non G-Crit A culo Provato Aspetta, aspetta, aspetta Ma veramente Ah, assurdo Vediamo dove mi tocca Sì Oh, è l'anno È l'uno Dai, il pugno dal cazzo Ragazzi, ho trovato l'ultima lana Non mi ricordavo mai che era un terzo Oh, dai che me ne voglio andare Io sono un po' preoccupato Sapendo il prossimo livello Sarà due, ragazzi Il prossimo sarà molto buco Dove mi porto? Ancora? Oh, no No, c'è da affrontare qua l'ultima Dimu Dimu No Hai rotto il Hey Buono No, no Qui è mister Dobbiamo uccidere questo bastardo E poi abbiamo una strada lì No, evo che mi ditori Non 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 evo che mi ditori Cazzuccia Ah, li è Ma che cavolo Spero di questo passo non riuscirò a colpirla Ne uccide Bastardo Fidio Dimastro Dai Dai Non sta per colpirmi Sì Tolpo la schiena Maledetta Non pagliare Sì Mi ha rotto la scena Ah Allta ковa Le cose vanno Molti commence Ora le cose vanno volte Mai no anto e la finisci e a far apposta c'è tu vuoi che devo fare il salto da rincoglianita ma ce l'ha fatta forse oggi ne ha sbagliato meno di tutte le altre volte questa cosa strana, in questo livello vediamo un po' tu devi andare di qua una plage su quando arriva su non è ancora arrivata ma ragazzi questa torre è immensa non si capisce siamo andati una volta all'altra siamo balzati una volta all'altra basta che stanno i negromanti del peo io come faccio? che culo che culo sono caduto laggiù e poi sono risalito qua c'è da divertirsi qua c'è da divertirsi che cosa anche quando uno ha usato le armi e perchè? 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 mo mi dovete fare una via alla fine perchè? oh io mo saluto non è per cui cazzo oh vai oh questa volta non mi sono fatto colore ne fregare ne fregare nessuna delle cose ancora no non siamo ancora arrivati non siamo ancora arrivati che palle ti prego fammi arrivare in cima deve fare tutto il suo coso cinematogra ah ma siamo arrivati in cima qual'è la spina? è una spina no non una spina come cazzo? quella è una colonna aperta ebraica eh ha fatto il santo dei centri uh che paure ezz dentro uno stomaco stiamo uh 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 attenzione oh quasi arrivati in cima siamo quasi arrivati ecco il nome ecco il nome ricordatevi queste queste cose ragazzi beh dai un altro po' un altro po' manca poco dai sali sali no 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 dai sali 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 dai 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 un altro po' dai si ha visto dal necromanto livello completato ragazzi la prossima volta vedrete una battaglia epocale contro un mostro gigante morto gigante certo non 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 Grazie a tutti.